Allora... Non è che non ho fatto la box build, perché qua la box sarebbe stato vergognosamente impossibile. Va bene. Mi tipo perché sarei più vicino. I came. Sono un po' più vicino col TP e magari esatto, in una zona un po' più inutile, come appunto è. Cerca di hittare più gente possibile. Nel frattempo per prendere più value. Perché così se vogliono fermarsi e curare lo possono fare. E a me conviene, perché poi se non lo fanno invece sono feriti. Oltre che... Non riuscivano ad atterrarlo per il pallet che mi prendo in testa, anche se non sono sotto pallet. Hanno già finito un gen? Ma è possibile? Vedo un popi popi. Mi sa che devo modificare un po' la build di Pinhead, perché gioco continuamente con questo, ma... Il problema è che... Di sentire il terror radio sembra che non gliene frega più un cacchio a nessuno. Perché nessuno lo toglie più. Nice! Dentro la finestra, let's go! Non la fai la box, smettila. Scudelna. Scudelna. Non la fai la box. Se riusciamo a tirarlo giù Sarebbe veramente 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 ottimo Però mi tre il god adesso Eh devo andare per lui però Nice Grazie della box Sloghiamo un attimo Non mi ha fatto il grab Bel gioco Dovrei arrivarci No di poco Nei che ti fico qualche scala di calcio No a me non piace il calcio C'è qualcuno qui Mi so che c'è qualcun altro Ancora lì Volevo alzare lui Non lei eh Però Perché lui ha più progressione Esattamente Era più veloce D'alzare lui In pratica Il fatto che si sono messi uno sopra l'altro Mi ha dato la possibilità di scegliere Ci ho provato ma Buon per termine non ti avveleni il fine settimana Non ho mai trovato uno sport interessante il calcio onestamente Cioè non capisco proprio Il senso di guardarlo per me Bel god droppato grazie Ognuno fa il cacchio che vuole Eh ripetiamo a questo Però io non lo trovo il senso Soprattutto Anche l'essere così tanto Non segui sport No non seguo nessun tipo di sport E non mi evoca Orco 2 raga Off the record questo Non lo sto swingando per questo Tra parentesi Voglio usare l'abilità Perché c'ho la don Che gli ho mette in In mending No? E quindi Risulta come hit Non riesco a hittarlo però Mi sono colpito da solo? Sapete che non sapevo Se potesse colpirsi da solo? Ah Perfetto Raghi no Sei un pagliaccio Vedi allora Meccanico Nice Agilità Non mi rispettavo Voltasse di nuovo Sono rivolta Ho sentito qualcuno a fare quel gen lì Non volevo lei Ma mi ha dato l'idea colpa tua Non credo Non lo so Signora Ezix Non lo so Non lo so Se c'è qualcuno a quel gen lì Non è neanche riuscito a riprenderlo Un guerco Un guerco Lo zanetto che c'ha con sta skin Sembra un ovettino Non so perché Dovrei arrivarci qua Abbastanza Cilsi Ovviamente bo Pensavo alla nurse Ma Già che Che volevi tanto la draga No Non è così Non è così Io non ho detto Mai detto di voler la draga Guarda questo presupposto Ai 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 Pagliaccio Ho visto un capello rosa Uscire da Dal Dal cespuglietto Easy Hanno anche Ora il Hanno anche la box attiva E se non la vanno a disabilitare Questo che Eh Che sta già andando Non ci arriverò mai in tempo In che ti parli Però posso andare per l'altra E stava lì al gen Dai Il cazzo di pallet Mi sono incastrato Perché non è andato per il pallet Non lo so Non è che è un clown A livello agonistico Meglio agonistico Che angosciante Immagino essere a livello angosciante E ora giochiamo assieme In tutto questo Non ho ancora attivato Pentimento Facciamo che lo vado ad attivare Va Vado solo uno L'ha rotto Di totem Ecco Come è andato Due totem L'hanno rotto Let's go Non mi ricordo neanche che cazzo fa 3 Onestamente E lei è morta in teoria No perché mi ha fatto un buon body Ma sono tutti i dead Tra l'altro Le riduce al vaccino Qui recuperando terra Quattro Ok I must be going Now E sopra No Sono passato di qua Per andare di là Ok Aia Non sapere come si toglie la box Di Pined Fra 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 Mi dica signor Pines Benvenuto Ripper Franklin Ma non è necessario Franklin L'altro è quello che ti fa vedere Quando raccolgono gli item Che è rip Madonna come sta correndo veloce Andrà a salvare l'altro Che è rip 3 a 4 a 3 a 4 le cancelle quindi 4 il più inutile perché tante cancelli non ci arrivano un giorno lo farò la sfida di provare a fare cinque totem 5 totem di pentimento un giorno sono tutti bloccati sì 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 dove sta? ecco qua che un po' di buone sofferenze gg riscrivo draghina addon cuscino distrutto e registratore sul campo mappa tenuta yamaoka yamaoka stonk si è sentito proprio il rumore di sasso quando l'ha colpito proprio ciao 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 ciao